Prigionieri al freddo, disperati, affamati, in lotta per non morire. Una scena agghiacciante di maltrattamenti, ancora una volta protagonisti gli animali. 150 cani da caccia Pointer, che un veterinario in provincia di Ravenna, ottantenne, teneva rinchiusi così nel suo allevamento, per venderli. Non gli dava da mangiare, secondo lui, solo i più forti ce la fanno. Dopo varie segnalazioni, stamane, il blitz del Nirda, della forestale, che si occupa dei reati contro gli animali. Vicino alla casa del professionista, altri 100 cani vagavano in mezzo a escrementi e carcasse di animali, in un enorme pantano. Con loro chiusi in gabbia anche 5 gatti selvatici, appartenenti a specie in via d'estinzione, protetti dalla Convenzione di Washington. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali e per il canile dovrebbe scattare il sequestro.